Ciao a tutti, benvenuti. Questa è la Croce di San Vito Locato, il punto più alto dove si può arrivare in questo paradiso terrestre. Potete vedere il mare, quello è San Vito, laggiù il faro, il porto. Abbiamo questo il Monte Cofano, Macari. Qua abbiamo anche Paolo che sta scrivendo le nostre memorie su questo libro. Ho tutti per poter venire a trovare qua. Buongiorno. Oggi 22 ottobre. Ancora c'è il sole, il camera di Sigar del Spiderman. Mer, il mondo più veloce del mondo. Perché veloce? Tutto veloce. Mica! Vedere le barman.